Inizia la collaborazione tra le città di Altamura e Gravini in Puglia che hanno deciso di unirsi nella sfida molto ambiziosa di candidarsi insieme al titolo di Capitale Italiana della Cultura nel 2027. Un accordo che anticipa i tempi perché c'è più di un anno per preparare il dossier. Nel frattempo Altamura andrà al voto a maggio e si insedierà la nuova amministrazione. È nata questa idea, unire i due territori per avere più possibilità di vincere questa battaglia perché di fatto è una sfida, sono le sfide ambiziosi, ambiziosi e comunque rientrano nel nostro programma se si può dire e quindi abbiamo lanciato questa sfida. Da lì è partito un percorso che è veramente soltanto all'inizio e che dovrà essere praticato, approfondito, rilanciato nel corso di questi anni a venire fino al 2027, anno in cui spero giunga la nomina.